Parlare di risorgimento è abbastanza complesso perché si tratta di una storia che ha molto a che vedere con il presente ed è difficile distinguere effettivamente la fattualità della storia dai miti. A volte confondiamo il mito con la storia o la storia con il mito e il lavoro dello storico effettivamente dovrebbe consistere in questo, cioè nel provare di epoca in epoca, perché il lavoro dello storico è sempre in fieri, a mettere, gettare luce sui fatti e ad argomentare le interpretazioni senza dare per scontato nulla. Le interpretazioni poi possono essere facilmente strumentalizzate, in genere lo sono per ragioni politiche. E' interessante per l'appunto notare come la storia dell'Italia recente e l'Italia ha circa 150 anni, un po' più di 150 anni. Nel 2011 si sono festeggiati per l'esattezza i 150 anni dall'Unità d'Italia, cioè da quel 17 marzo 1861 in cui è stato effettivamente proclamato il Regno d'Italia, quindi poco più di 150 anni in cui il nostro paese effettivamente ha attraversato vicende estremamente complesse, contraddittorie, basti pensare alla guerra civile o alla lotta di liberazione sullo scorcio della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma insomma, ecco, per sommi capi possiamo distinguere tre diversi miti fondativi. Il primo mito fondativo che verrà utilizzato nelle scuole italiane a partire dagli anni Sessanta e dell'Ottocento è quello per l'appunto del Risorgimento. Dunque noi abbiamo del Risorgimento una visione che in un primo momento è una visione mitologica, è una visione che viene utilizzata per scopi politici e la scuola in questo caso, la scuola elementare in particolare, è il luogo dove si fa la politica perché, come ebbe a dire Massimo D'Azeglio, subito dopo l'Unità d'Italia, effettivamente l'Italia la si era fatta ma occorreva fare gli italiani e gli italiani li si fa in primo luogo a scuola e li si fa partendo dall'idea che essi debbano acquisire la coscienza di essere italiani perché non è affatto scontato che si sentano italiani, molti di loro non sanno affatto di che cosa si stia parlando, non sanno nemmeno che cos'è l'Italia, ma non parlano nemmeno italiano perché se tornassimo indietro, insomma, di un secolo e mezzo probabilmente viaggiando per l'Italia, per la penisola, insomma, quella che Metternich aveva definito semplicemente un'espressione geografica e non una nazione unitaria, ebbene, raramente sentiremmo parlare italiano presso la gente comune, presso il popolo, sicuramente sanno parlare italiano l'élite, la borghesia, l'aristocrazia, quelli che hanno avuto una formazione scolastica più o meno significativa, quindi puoi muoverti per la penisola e parlare in italiano da Palermo a Torino piuttosto che a Milano, ad Ancona, a Roma, indubbiamente, però puoi parlare italiano solo con poche persone in realtà, un po' come oggi se uno cercasse una persona in Italia che parli bene inglese difficilmente la troverebbe, ecco. Gli altri parlano napoletano piuttosto che milanese, piuttosto che dialetto romano, palermitano, trapanese e così via, quindi lingue diverse, culture diverse, tradizioni diverse, perché l'Italia effettivamente ha ragione Metternich, l'espressione Italia come luogo geografico e non come luogo politico, civile o culturale, è un'espressione che lui conia durante il congresso di Vienna, quindi nel 1815, e che ha ragione d'essere perché tiene conto di quella che era stata fino a quel momento la storia della penisola, una storia che di unitario effettivamente non aveva nulla, se non, sì, ecco, forse di unitario c'è quella lingua di cui parlavo prima, effettivamente è curiosa la storia della nostra nazione, perché l'Italia effettivamente nasce un furto dopo rispetto all'italiano, cioè l'italiano come il volgare di Dante, come lingua culturale, come lingua aulica, lingua cortese, quindi che si parla anche presso le corti, che viene parlata anche dall'élite, ha una storia piuttosto antica, insomma risale, come sappiamo, al 1200, forse anche a prima, quindi c'è una tradizione letteraria assolutamente affermata, Dante, Petrarca, Boccaccia, poi c'è tutto il Rinascimento, il Rinascimento parla italiano, e l'italiano è una lingua, a tutti gli effetti, una lingua europea, ed è una delle principali lingue europee, anzi forse è la lingua della cultura per eccellenza, se pensate che ancora oggi la musica utilizza, nelle espressioni ad agio, per esempio, allegretto, utilizza proprio gli aggettivi italiani, perché l'italiano era la lingua della cultura, gli italiani erano ben accetti, gli intellettuali italiani, dal Cinquecento in poi sono ben accetti, presso tutte le corti europee, però ecco, italiani perché parlano italiano, ma in realtà sono piuttosto genovesi, o veneziani, o fiorentini, come sappiamo, quindi storie completamente diverse. Dunque aveva ragione Metternich, e l'Italia nasce come Regno Unito, e c'è bisogno, nasce in maniera piuttosto complessa, una serie di eventi che potevano anche non verificarsi nella maniera in cui sono effettivamente verificati. Occorreva dunque creare una coscienza di italianità, fare per l'appunto gli italiani, e questo lo si faceva attraverso la scuola, o si doveva fare attraverso la scuola. Quindi in primo luogo bisogna inventare il mito del risorgimento, ed è quello che si fa nel corso dell'Ottocento, insomma, fino alla Prima Guerra Mondiale, anzi Prima Guerra Mondiale compresa. Dunque se giriamo nelle nostre città troveremo questi eroi che sono stati mitizzati, sono diventati dei miti, accanto al mito c'è anche la figura storica che possiamo ricostruire, che possiamo studiare, questo è il mestiere degli storici. Però insomma nessuno può negare che Garibaldi sia per Garibaldi, per esempio, o Capur, siano a tutti gli effetti dei miti, e la visione che ne avevano le persone all'epoca, il più, ecco, il popolo, e che ne abbiamo ancora noi oggi, quei pochi che poi in realtà si interessano alla storia, è una visione spesso e volentieri contraffatta o superficiale, ecco, che non tiene conto della complessità della personalità, del soggetto, o degli eventi che effettivamente si verificano. Dunque il mito del risorgimento. Scopriremo poi, nelle prossime lezioni, come effettivamente l'Italia Unita fosse tutt'altro che un destino, o lo è da un certo punto di vista, che non è quello nazionale, popolare, tanto meno quello democratico, quanto piuttosto quello liberale, liberista, economico, ci sono una serie di pressioni internazionali che porteranno poi l'Italia a nascere come Regno Unito, a formarsi come Regno Unito, no? In primo luogo quelle di Francia e Inghilterra, che tengono a battesimo la nascita del Regno d'Italia, per l'appunto. L'interesse fondamentale è quello della borghesia, in questo senso il risorgimento italiano, ma un po' tutti i risorgimenti europei, sono una prosecuzione di quella che era stata la rivoluzione francese, la rivoluzione francese l'abbiamo definita una rivoluzione borghese, in cui la borghesia, è l'interno della chiave di lettura di Marx, è una chiave di lettura che si è decisamente affermata, ovvero la borghesia acquista pian piano il controllo, non solo delle principali leve economiche dei paesi, ma anche delle istituzioni. È un cammino piuttosto lento, ma insomma l'Ottocento è il secolo in cui la borghesia esplode, per così dire, e inizia ad occupare i luoghi chiavi delle istituzioni. L'unità della nazione è fondamentale, lo si capisce subito, è immediato ed immediata comprensione, per dare luogo a mercati non così chiusi, non così asfittici, così limitati al punto di vista geografico, quali erano i mercati dell'Italia frammentata, della penisola frammentata in tanti regni di dimensioni, più o meno piccole o grandi, a volte provinciali, regionali, al massimo pluriregionali, come era il regno delle due Sicilie. Dunque occorre effettivamente una nazione unita per avere un mercato, diciamo, compatto, ben distribuito, in grado di fare concorrenza alle altre nazioni europee. Se ci pensate, la Francia, l'Inghilterra e la Spagna erano nazioni unite da molti secoli, dal tardo medioevo, dall'inizio dell'età moderna. Quindi il primo mito di cui parliamo è il mito stesso del Risorgimento. Ci sono altri due miti, come vi dicevo. Il secondo mito che ha a che vedere sicuramente come Risorgimento è quello della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, che noi conosciamo come Grande Guerra, Vittorio Veneto, la vittoria, che è l'enorme sacrificio, 600.000 morti, un milione e mezzo tra feriti, mutilati, un vero e proprio shock, che però si conclude, diciamo, con una vittoria e con la conquista di quelle cosiddette province irredente, territori irredenti, irredenti dal punto di vista della religione nazionale. La redenzione vuol dire che questi territori, parliamo principalmente di Trento e Trieste, si aggregheranno, verranno aggregati all'Italia. Ecco, questo è anche il motivo per cui, per alcuni storici, effettivamente il lungo risorgimento arriva fino a dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi si conclude con la Prima Guerra Mondiale. Sul mito della Prima Guerra Mondiale, di Vittorio Veneto, e quindi se giriamo sempre nei nostri paesi, troviamo accanto a Curso Capur e a Via Caribaldi, troviamo nella piazza centrale del paese il monumento, l'altare agli aduti della Prima Guerra Mondiale, anche nel paese più sperduto in Italia. Questo mito verrà utilizzato nell'immediato dopoguerra dal neonato regime fascista e accanto al mito dell'eroico soldato italiano dell'Italia che si è redenta e quindi si è risvegliata come nazione dopo tanti secoli e così via. Il fascismo lancerà anche il mito della Romanità, ovvero l'Italia, la potenza italiana, la neonata potenza italiana, dovrà provare a ricreare quell'impero, ereditare quell'impero che fu di Roma. Il terzo e ultimo mito è quello più recente sul quale è stata costruita la Repubblica dalla Costituzione dal 48 in poi che è il mito della resistenza, della lotta di liberazione. Beninteso, dietro i miti ci sono effettivamente delle, è chiaro che ci sono degli eventi storici, però uso il termine mito, viene usato il termine mito perché effettivamente le interpretazioni laddove sono utilizzate in maniera univoca, a senso unico, e possono effettivamente dare adito a polemiche, dibattiti, ed è quello che effettivamente è stato fino adesso, cioè gli italiani continuano, oggi continuiamo, a non essere affatto uniti nemmeno intorno al mito fondativo, anzi siamo, diciamo, profondamente disuniti in relazione al mito fondativo della Repubblica che è quello della lotta di resistenza, pensate a quanti politici volenti o nolenti apertamente o meno disertano la festa del 25 aprile.